bene buongiorno buongiorno a tutti naturalmente spetta a me dire anche benvenuti nella nostra bellissima regione in questa bellissima città il tempo ci sta aiutando a farvi capire in quale meravigliosa regione viviamo quindi vi ringrazio molto per l'invito a questo appuntamento annuale della cei che quest'anno abbiamo appunto l'onore di ospitare in sardegna e vi ringrazio anche perché è una un appuntamento che affronta un tema così importante come il lavoro ho apprezzato molto il taglio che è stato dato a queste giornate di riflessione l'idea di un lavoro libero creativo partecipativo e solidale una visione condivisibile auspicabile da tutti affinché il lavoro diventi realmente uno strumento di crescita non solo economica ma per tutta la società fatemi dire che quando si affronta il tema del lavoro è il dramma della mancanza di lavoro è davvero importante in termini populismo imperante che promette facili e immediate soluzioni che non esistono è davvero fondamentale avvicinarsi a questo tema con la massima umiltà con la consapevolezza che abbiamo di fronte un problema enorme soprattutto in questa parte del mondo l'italia e il mezzogiorno in italia e che dobbiamo affrontare con la serietà e la serietà credo in chi governa significa soprattutto la disponibilità non a promettere cose che si faranno ma a rendicontare ciò che si è fatto noi siamo al governo a tre anni e questo non è il momento di fare annunci è il momento di raccontare ciò che con umiltà ma con determinazione abbiamo fatto nell'ambito del lavoro quando abbiamo cominciato a governare abbiamo promesso riforme profonde perché abbiamo pensato che solamente con riforme di questo tipo si può dare una risposta alla profonda crisi che attaglia la sardegna e l'italia più lavoro una sanità migliore capace di ridurre il grave fenomeno della migrazione sanitaria istituzioni più semplici ed efficienti trasporti capaci di mitigare il problema dell'insularità che vuol dire anche difficoltà di creazione di lavoro un'agricoltura più produttiva meno soggetta alle crisi periodiche che da troppo tempo la caratterizzano quando abbiamo cominciato a governare ci siamo posti il problema più importante in questi lunghi anni di crisi in sardegna come ovunque nel mondo questo credo sia davvero il problema fondamentale come favorire una crescita inclusiva una crescita che sostenga politiche di equità che finanzi reali pari opportunità la crescita economica a valore quanto più va di pari passo con la crescita sociale delle persone quanto più in grado di generare risorse per finanziare politiche capaci di affrontare i problemi dei più deboli i territori che vivono i fenomeni decennari di spopolamento le persone che hanno perso il lavoro che hanno gravi problemi di salute che vivono sotto la linea della povertà prendete le nostre zone interne siamo una città sul mare ma naturalmente la sardegna è anche forse soprattutto nella sua parte bellissima parte interna sono le parti però che oggi vivono maggiormente la crisi la disoccupazione soprattutto quella giovanile tra le molte azioni in corso incluso una importante azione per lo sviluppo locale che chiamiamo programmazione territoriale fatemi citare una in particolare dico con orgoglio che oggi siamo la nona regione la nona regione tra 300 regioni europee per investimenti nella banda larga nei territori dove libero mercato non sarebbe arrivato da solo pensiamo infatti che l'accesso alla tecnologia se ne parte sia una infrastruttura essenziale un vero e proprio diritto che nessuno deve essere penalizzato solamente perché abita in una zona lontana dalle luci della città questo è il nostro punto di vista sulla sardegna sulle zone interne oggi 52 comuni possono collegarsi alla banda ultra larga 105 sono i cantieri attivi con conseguenti posti di lavoro molti e 87 sono i cantieri in fase di progettazione ma inclusione significa prima di tutto dare alle persone pari opportunità per esempio aiutandole a trovare un lavoro migliore la migliore politica per diffondere pari opportunità credo che in questa sala lo sappiamo tutti e l'istruzione abbiamo puntato infatti prima di tutto sulla scuola investendo ingenti risorse non solo economiche attraverso un progetto che abbiamo chiamato di scuola un progetto che agisce in maniera massiccia con interventi sugli edifici e sulle competenze dei ragazzi e degli insegnanti i risultati di questo intervento si cominciano a vedere sono circa 300 sono circa 900 scuole riqualificati finora decine di progetti di formazione per insegnanti e per ragazzi le comunità scolastiche e i sindaci hanno aderito con entusiasmo e serietà creando insieme a noi non solo le basi per il miglioramento dei livelli di istruzione e della dispersione scolastica una vera piaga nella nostra isola che però in questi anni è diminuita di cinque punti percentuali voglio dire nessuno riesce a fare cose importanti da solo lo si diceva prima è fondamentale avere una comunità che condivide con entusiasmo lotte così importanti e mentre facciamo questa essenziale scommessa per il futuro migliore per i nostri giovani creiamo occasioni di lavoro oggi quando ce n'è più bisogno nella crisi attraverso i cantieri che sostengono questa trasformazione della scuola grazie al piano straordinario per l'edilizia scolastica infatti sono stati aperti oltre 1200 cantieri in questi mesi cantieri di lavoro che hanno generato oltre 3.000 occupati diffusi in tutta la sardegna ma lavorare per una società inclusiva non significa solo investire nelle competenze dei giovani e chi va a scuola significa anche investire su chi a scuola non va più perché quel tempo è passato e però sta ancora cercando lavoro e per non lasciare indietro nessuno c'è una via maestra complicata non piace ai populisti ma è inevitabile è quella di sperimentare politiche attive per far sì che un periodo di disoccupazione si trasformi nell'occasione di fare le cose giuste per ritrovare un lavoro dignitoso abbiamo lavorato molto in questo campo c'è qui l'assessore al lavoro che ha davvero lavorato tanto in questa direzione abbiamo investito molto per esempio in un progetto che si chiama flex security che accompagna i disoccupati passo per passo verso un'altra attività lavorativa inoltre siamo tra le prime regioni d'italia ad aver attivato in via sperimentare il contratto di ricollocazione ottenendo dal ministero del lavoro un finanziamento importante a cui si sono aggiunte ulteriori risorse europee è un progetto rivolto a 2.400 per settore di ammortizzatori sociali in 1.400 hanno diritto una misura con risultati incoraggianti devo anche citare garanzia giovani con 42 mila giovani che sono stati presi in carico dai nostri centri di servizio per il lavoro anche qui con risultati incoraggianti per uno strumento che altrove ha dato non poche delusioni non solo è questo particolarmente importante stiamo avviando in modo anche qui sperimentale una misura non ancora realizzata altrove si tratta del social impact investing finanziato con 8 milioni di euro dai fondi strutturali europei per realizzare progetti ad impatto sociale misurabile abbiamo voluto scommettere su questo intervento innovativo prendendo spunto ad alcune esperienze realizzate in ambito internazionale che hanno dato ottimi risultati intervenendo sull'inserimento lavorativo di particolari categorie di soggetti come per esempio gli ex carcerati per ridurre il rischio di recidiva ma tutte queste politiche importanti sperimentali non avrebbero nessuna speranza di funzionare senza dei centri per l'impiego adeguati e diffusi per questo fin dall'inizio abbiamo lavorato per riformare anche qui tra le prime regioni italiane l'intero sistema dei centri di servizio per il lavoro uno strumento che quando ben strutturato come sta diventando il nostro si è dimostrato essenziale per aiutare i disoccupati e mentre sperimentiamo politiche innovative le affianchiamo con strumenti più tradizionali che sono ancora necessari come i cantieri di lavoro destinati ai disoccupati di lunga durata agli over 55 anni e a salvaguardare l'occupazione in situazioni di crisi e continuiamo a dare sostegno al reddito delle famiglie più povere attraverso il race il reddito di inclusione sociale uno strumento in cui siamo anche qui tre primi in italia tutti interventi questi e quelli nell'ambito sotto socio sanitario nei quali la sardegna è all'avanguardia da anni e che ora sono confermati nella proposta di legge finanziaria che abbiamo appena presentato del consiglio regionale naturalmente creare lavoro significa creare impresa e bisogna anche lavorare molto per favorire la creazione di impresa si parlava prima delle ragazze di santa teresa e di moltissime altre esperienze importanti ci sono giovani che sono pronti a misurarsi con questa grande sfida quella di creare qualcosa dal nulla e creare quel qualcosa che poi crea lavoro anche per altri abbiamo una grande esperienza in sardegna del microcredito è un'esperienza importante con un forte valore etico che consente a persone senza la capacità di andare in una banca per ottenere un finanziamento di ottenere finanziamenti di partenza per loro interventi e per loro idee imprenditoriali anche piccole ma che potranno crescere e sono fortemente aiutate da questa politica del microcredito due giorni fa il ministro de vincenti parlava di una politica nazionale che si chiama arresto al sud che ci piace ma ci piace ancora di più la nostra idea che si chiama entrepreneurship and back usiamo l'inglese perché abbiamo avuto una politica precedente che si chiama master and back che stiamo riproducendo su un tema ancora più importante quello di consentire un giovane sardo con potenzialità importanti per diventare imprenditore lo vogliamo aiutare a diventare imprenditore in altri contesti diventare imprenditore facile perché si vive in contesi in cui ci sono migliaia o centinaia di migliaia di altri imprenditori in regioni come la sardegna è più difficile c'è bisogno di uno aiuto strutturato credo che la politica che abbiamo chiamato entrepreneurship and back sarà una delle politiche più innovative per portare centinaia di giovani talento a creare davvero imprese in sardegna e a creare migliaia di posti di lavoro ma naturalmente la migliore cura contro la disoccupazione della povertà è una crescita sostenuta e inclusiva sull'inclusività ho detto stiamo lavorando molto pur con risorse inadeguate per la crescita sostenuta servono anche qui molte risorse ma anche buone regole soprattutto quando si vive in un'isola nella quale alcune infrastrutture essenziali nei trasporti per esempio che sono ovvi per altri territori sono qui invece disponibile in misura molto inferiore rispetto a quello che succede nel resto del paese questo è uno dei nostri gap questo è uno dei nostri fattori che generano disoccupazione risorse importanti sono arrivati dal patto con la sardegna citato due giorni fa dal ministro de vincenti un ottimo patto che inizia finalmente ad aggredire alcuni dei principali problemi strutturali che abbiamo dalla mancanza del metano ai trasporti esterni gli aerei e interni la ferrovia risorse importanti ma non basta vogliamo poter rendere più intense le nostre politiche di inclusione sociale e vogliamo poter investire più intensamente per colmare un terribile gap infrastrutturale accumulato in decenni di scarsa attenzione delle politiche nazionali verso la nostra isola per questo riteniamo sproporzionato ingiusto l'attuale livello degli accantonamenti che ci impone il governo accantonamenti che riducono in modo significativo le nostre entrate e la nostra stessa possibilità di combattere povertà arretratezza dipendenza risorse ma non solo anche regole dicevo non abbiamo bisogno soltanto di soldi appunto abbiamo anche bisogno di buone regole perché nessuno può far finta che la sardegna non sia un'isola e non abbia esigenze molto diverse rispetto ai territori che non sono insulari per questo stiamo rivendicando con forza di fronte all'unione europea il nostro diritto a una maggiore libertà di azione in alcuni ambiti come i trasporti per poter giocare ad armi pari con altri territori una battaglia nella quale chiediamo la presenza al nostro fianco pretendiamo la presenza al nostro fianco del governo nazionale di questi temi naturalmente che sono essenziali per la nostra gente parlerò presto a nome di tutta la sardegna con il presidente gentiloni nella convinzione che sia urgente trovare soluzioni a problemi per troppo tempo ignorati concludo la politica a volte promette molto e crea poco oggi proprio per questo viviamo io credo un periodo di disillusione nei confronti delle istituzioni pubbliche noi stiamo lavorando alle cose che avevamo promesso senza alzare i toni cercando di farlo con la massima serietà e come ho detto umiltà in questi tre anni abbiamo gettato le basi per riforme importanti la sardegna in effetti è un cantiere il nostro lavoro è a lungo termine non è pensato per dare risultati effibili come tutti abbiamo commesso e commetteremo ancora degli errori ma rivendichiamo la scelta di aver messo in cantiere riforme necessarie importanti urgenti portandole a termine riforme senza le quali ci sarebbe oggi solo stagnazione costante e frustrazione crescente le riforme quelle vere prendono tempo producono lentamente i propri benefici ma a noi poco importa se ai nastri dell'inaugurazione un domani ci sarà qualcun altro a noi basta la certezza di aver fatto le cose che crediamo giuste per dare un futuro migliore alla nostra gente grazie grazie presidente per questo intervento preciso puntuale onesto senza sardegna non si può ripartire ripartire del resto investimenti a forte impatto sociale accompagnamento alla disoccupazione lotta contro la dispersione scolastica digitalizzazione formazione creazione di nuove opportunità ma anche quella entrepreneurship and back la possibilità di aiutare i giovani a diventare imprenditori dove le condizioni sembrano più complesse più difficili sono parole con cui non proprio nell'immediato ma tra breve entreremo nei tavoli di lavoro dopo l'inverno viene la primavera lavoro degno e futuro dell'italia per introdurre una nota un po scherzosa oggi è una giornata anche cinematografica perché insomma vedremo un docufilm che è stato già accolto alla festa del cinema un docufilm particolarmente bello di andrea salvadore ieri tv 2000 ma da di non da un film dei dardenne che è una denuncia molto forte quando ho letto dopo l'inverno viene la primavera mi è tornato in mente un film che qualcuno di voi ricorderà si intitolava oltre al giardino capolavoro dell'attore peter sellers che interpretava questo giardiniere chancy garner che si ritrovava presidente degli stati uniti e che si serviva del suo armamentario delle sue frasi molto semplici per dire però grandi verità sì dopo l'inverno viene la primavera sottolinea l'urgenza di un orizzonte di speranza la possibilità di ricostruire un paese solidale però prima occorre ristabilire ricostruire un equilibrio che si è spezzato nello scambio tra gli interessi economici sociali c'è stato detto anche ieri occorre un nuovo patto tra lavoro società e il consumo occorre un nuovo paradigma io do il benvenuto qui a mauro magatti sociologo segretario del comitato scientifico e organizzatore della 48esima settimana sociale buongiorno grazie a tutti è sempre un privilegio una responsabilità prendere la parola e come segretario esprimo anche la gioia di vedere tante persone che stanno lavorando in tutta italia e che hanno dedicato questo tempo prezioso della loro vita a ritrovarsi insieme noi siamo felici di avervi qua e speriamo che il nostro augurio naturalmente che questo sia solo un passaggio di un lavoro insieme che continueremo insieme oggi il giorno dell'ascolto e della proposta insieme già ieri nei tavoli si è cominciato a discutere e più tardi incontreremo le forze sociali e poi il governo e l'europa in questo percorso il mio compito è quello di provare a raccogliere in un orizzonte comune i tanti spunti per rinvigorire se possibile il passo di tutti e così procedere nel cammino è solo il racconto della vicenda delle ultime tre generazioni vissute nel nostro paese che ci può permettere di inquadrare adeguatamente la situazione nella quale ci troviamo la generazione del dopoguerra quella di mio padre ha lavorato con speranza e passione creando una grande ricchezza diffusa per sé e i propri figli poi è arrivata la generazione del baby boom quella di cui io faccio parte nata insieme all'individualismo al consumerismo è cresciuta col benessere venendo poi investita dal forte evento della globalizzazione neoliberista a conti fatti la mia generazione lascia in eredità molti debiti e pochi figli e così si arriva la terza generazione quella dei miei figli i cosiddetti millenials che oggi hanno l'età per affacciarsi la vita adulta ma che sono spesso costretti alla scelta tra emigrare o stare in panchina è nel quadro di questo percorso storico nel quale è cambiato anche il modo di essere presente nella società e nella politica dei cattolici che la questione del lavoro in italia oggi io penso debba essere posta una tale situazione non si è creata per caso nella storia recente del nostro paese c'è infatti un punto di svolta ben preciso sono gli anni 80 quando il debito pubblico raddoppiò passando dal 60 più del 100 per cento del pil e come un idrovora ha cominciato a divorare la ricchezza accumulata nei decenni passati compromettendo il futuro delle generazioni che venivano in quel decennio esaurita la spinta creativa del dopoguerra a cui i cattolici avevano dato un contributo fondamentale l'italia ha cominciato a ripiegarsi su se stessa adottando un modello antigenerativo tutto schiacciato sull'io il breve termine il binomio consumo rendita sostenuto dal debito vera causa questo modello delle difficoltà di oggi un'idea sbagliata che ha prodotto una cultura da cui derivano molti dei mali che ben conosciamo disuguaglianza e povertà blocco della natalità e del ricambio generazionale elite estrative e corruzione endemica perdita di peso del lavoro sulla ricchezza prodotta se vogliamo essere onesti dobbiamo ammettere che da lì il paese non si è quasi più mosso come ha confermato la mostra che ha aperto le settimane sociali l'italia viene da una lunga stagione di declino su cui poi è inciso la grave crisi internazionale del 2008 il cui costo ricade soprattutto sulle spalle dei giovani delle famiglie e delle donne in una parola potremmo dire che l'italia è invecchiata ed è invecchiata male da qualche tempo finalmente i dati parlano di una ripresa e questo è un bene perché respiriamo tutti un pochino meglio ma è bene non fraintendere i benefici della ripresa raggiungono troppo lentamente e parzialmente la quotidianità di molte persone e nel frattempo sono passati dieci anni la ragione è che la relazione tra aumento della crescita del PIL e le condizioni di vita questa relazione mediata proprio del lavoro è oggi più labile che in passato crescono i profitti la produttività in Italia un po' meno per la verità le quotizioni di borsa ma solo in misura modesta l'occupazione la ricchezza rimane troppo concentrata la crescita geograficamente troppo difforme i salari continuano a essere stagnanti e buona parte del lavoro è precarizzata e sottopagata per molte famiglie le cose non sono migliorate e soprattutto le aspettative per i giovani rimangono fiacche la verità dal mio punto di vista è che la crisi del 2008 ha cambiato le condizioni dello sviluppo un'altra volta che ce ne rendiamo conto o no siamo entrati in una nuova fase storica con la quale dobbiamo ancora imparare a fare i conti siamo sulla soglia di una trasformazione profonda negli ultimi vent'anni sono state poste solo le premesse della società digitale sappiamo già che una buona parte del lavoro umano sarà sostituito dal lavoro delle macchine se non vogliamo farci prendere al pessimismo e non dobbiamo farci prendere al pessimismo si può ragionevolmente ritenere che mentre si distruggeranno nasceranno anche nuovi lavori ma non dimentichiamo che per le persone in carne e ossa i volti a contare saranno i modi e i tempi del processo di aggiustamento il rapporto tra vita e lavoro poi è destinato a venire rimodulato il lavoro del futuro infatti sarà meno vincolato a luoghi e tempi specifici in un mondo in cui saremo sempre connessi lo siamo già e lo saremo ancora di più cosa vorrà dire lavorare? che cosa limiterà il tempo di lavoro? e come si determinerà il salario? cosa vorranno dire libertà e creatività? già oggi col cosiddetto lavoro agile si vanno diffondendo contratti che contemplano la possibilità di lavorare a casa una soluzione che può permettere una migliore compatibilità con la vita personale e familiare ma che, senza adeguate tutele può al contrario favorire nuove forme di controllo e di sfruttamento sinteticamente il compito che ci aspetta è di navigare tra la scilla della società senza lavoro la cosiddetta jobless society la distruzione dei posti lavoro e la caridi di una società del tutto lavoro la total job society quella in cui ogni nostra attività di produzione di consumo di cura potrà venire assoggettata a controllo e misurazione per evitare entrambi questi scogli scilla e caridi è necessario impegnarsi per rendere la digitalizzazione una benedizione e non una maledizione ma non sarà un compito facile per muoversi nella giusta direzione senza dimenticare chi soffre la prima cosa da fare è mettersi in ascolto per scorgere i germogli di una nuova primavera lo abbiamo fatto in questi mesi con cercatori di lavoro e dobbiamo continuare a farlo tornando a casa nei mesi che verranno dobbiamo tornare a casa e continuare a cercare i segni buoni ma quali sono questi germogli primo che il tema della sostenibilità nella sua accezione più ampia cioè ambientale e sociale sia oggi imprescindibile lo hanno capito prima di tutto alcune imprese quelle più dinamiche la sostenibilità promuove un modello di sviluppo in cui valore economico e sociale sono ricongiunti in un'ottica di medio e lungo periodo meno profitti domani mattina più profitti stabili nel tempo numerose ricerche che dicono che le imprese di successo sono quelle che adottano una strategia centrata su qualità integrale della produzione relazione basata sulla fiducia al reciproco e al riconoscimento con i dipendenti e i fornitori attenzione al territorio e all'ambiente è un nuovo modello economico dobbiamo vederlo e sostenerlo la logica dello sfruttamento invece del lavoro, dei fornitori, dell'ambiente, del territorio in un'unica in un'eterna lotta quotidiana basata su quantità e prezzo non porta da nessuna parte nemmeno per le imprese secondo considerazioni analoghe valgono per i territori a fiorire sono quelli capaci di mettersi insieme per fare squadre e creare sinergia superando divisioni e lotte intestine le infrastrutture, la formazione, l'integrazione sociale e l'identità locale non sono costi ma investimenti la stessa BCE di recente ha ammesso che le spese per sanità, educazione e infrastruttura cito hanno effetti positivi sulla crescita a lungo termine riducendo al tempo stesso la spesa improduttiva terzo oggi si riconosce che la motivazione è decisiva per armonizzare soddisfazione personale e successo di impresa non solo tra artigiani, professionisti, tecnici manager, imprenditori specie se donne cresce la domanda di un lavoro associato a un senso c'è voglia di qualcosa di più non solamente far funzionare macchine, sistemi ma dare il proprio contributo essere artefici del cambiamento di sé e della società rispondere ai bisogni e risolvere i problemi mettendo in campo la propria intelligenza c'è voglia di una nuova contribuzione una domanda da ascoltare, sostenere perché questo è il desiderio umano che è mediato dal lavoro l'abbiamo sentito nelle bellissime riflessioni bibliche poter esprimere la propria creatività personale prendendo parte al movimento generativo della vita anche tra i consumatori cresce la consapevolezza Leonardo Becchetti ce lo dice sempre il famoso voto col portafoglio come un sasso nello stagno ogni atto di acquisto produce conseguenze che arrivano molto lontano all'interno del sistema economico questa consapevolezza va crescendo va alimentata, va sostenuta perché crea nuovi stili di vita e cambia un po' per volte i modi di produzione forse la migliore notizia è che tutto ciò è particolarmente vero per i giovani, ci dicono le ricerche le nuove generazioni giudicano positivamente l'economia di mercato ma chiedono che sia regolata e messa al riparo dai suoi eccessi hanno pagato la crisi non sono esaltati dal mercato anche se considerano il mercato uno strumento utile molto sensibili nei confronti della questione ambientale i ragazzi sanno che la loro generazione sopporterà i costi della colpevole in azione nei confronti dell'ambiente inoltre le nuove generazioni ambiscono a costruire un equilibrio migliore tra vita e lavoro dove la remunerazione economica non costituisce l'unico criterio di scelta per lo più aperti e tolleranti verso i migranti i giovani pensano che l'affermazione personale non debba andare a discapito delle relazioni il loro sogno è che il riconoscimento delle loro capacità non sia dissociato dal desiderio di dare un contributo alla comunità circostante che in mezzo a tante difficoltà a tanto dolore che molti di voi conoscono ci sia ragione di sperare lo mostrerà efficacemente il film che vedremo nel pomeriggio un documento prezioso che ci permetterà di intuire con grande chiarezza quale può essere il nostro futuro prima di tutto rinnoviamo dunque i nostri occhi e il nostro cuore di fronte ai guasti lasciato dello sviluppo disordinato degli ultimi decenni sono tanti coloro che stanno già cercando un nuovo modo di pensare di vivere il legame con l'altro visto come costitutivo e non come una minaccia della propria libertà e il rapporto con la realtà che li circonda da rispettare non semplicemente da sfruttare e manipolare in quella cornice di uno sviluppo umano integrale tracciata così mirabilmente dalla laudato sì il problema è non disperdere questo fermento in questo momento storico ma di convogliarlo in una visione unitaria che un po' per volta occorre far emergere forzando un po' ma non troppo i termini della questione si può dire che l'Italia si trova davanti a un bivio o cadere ancora di più nella spirale di sfruttamento e disuguaglianza resa possibile da una digitalizzazione che pretende di organizzare l'intera società come una grande fabbrica oppure incamminarsi verso un nuovo sentiero di sviluppo che rilegando economia e società metta al centro la creatività umana arrivando a delineare una transizione migliore tra vita e lavoro va a dire ma Gatti gli piace dire delle cose diciamo così belle e allora le dice no io non credo che sia così la primavera non è l'estate che è il tempo calde dell'attesa e tanto meno l'autunno il tempo del raccolto è piuttosto il tempo della semina cioè della speranza dell'audacia dell'impegno di chi sa credere senza vedere ancora i frutti ringrazio il presidente della regione Sardegna per aver dichiarato ciò che ha appena dichiarato di chi sa credere senza vedere ancora i frutti questa è la primavera e questa la stagione che stiamo vivendo ma che cosa possiamo o dobbiamo seminare il tempo che viviamo ci sollecita a mettere in discussione l'idea semplice che si è affermata verso la fine degli anni 60 e poi dilagata dagli anni 80 l'idea semplice secondo la quale il consumo sostenuto dalla finanza possa semplicemente sostenere la crescita nulla contro il consumo ma l'ordine dei fattori va invertito solo quelle imprese quelle organizzazioni quei territori quelle comunità che sapranno mettersi insieme per produrre valore potranno prosperare e sostenere anche i loro consumi prima occorre tornare a produrre valore e solo poi si potrà consumare non più viceversa si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma abbandonata la strada fasulla dell'illusionismo fidanziario siamo chiamati a lavorare tutti insieme nella creazione di un valore comune insieme economico sociale materiale spirituale secondo un nuovo mix di efficienza e senso imprenditività e solidarietà immanenza e trascendenza lo provo a dire con una metafora nel nuovo mare della tecnica che avvolge l'intero pianeta si ripropone la questione della terra etimologicamente il termine terra significa secco non umide in contraposizione al mare ambiente liquido e infido e come tale impossibile da dominare Dante usa l'espressione gran secca per dire che per esistere la terra deve emergere dal mare la terra dà dunque il senso di una solidità di una permanenza cioè di una storia di una cultura di un futuro di un servizio in una parola di un nomos una legge parola nomos che ha una triplice valenza etimologica nemen significa presa afferrare conquista teilen divisione spartizione veiden coltivazione valorizzazione che la terra la politica nel senso più lato del termine rischi di ripresentarsi oggi come conquista come guerra e sotto gli occhi di tutti o come divisione come costruzione di muri è altrettanto evidente ma la verità è che al di là di ogni pretesa di autosufficienza la terra umana oggi si può ricostituire solo in rapporto al mare della tecnica e alle altre terre emerse certo terra presuppone un limite una cultura cioè una coltivazione ma questo non implica né muri né contrapposizioni la via ce la suggeriscono i biologi quando a proposito delle cellule distinguono tra parete e membrana la prima trattiene per quanto può e dà via quanto meno possibile la parete la seconda porosa resistente permette di fluire le diverse sostanze senza per questo perdere la sua struttura la propria struttura in effetti se è vero che nessuna terra può fiorire oggi indipendentemente dal mare tecnico con i suoi codici i suoi linguaggi i suoi standard è altrettanto vero che la terra il suo nomos oggi può emergere più che mediante richiamo alla separatezza e con essa al sangue attraverso l'azione del custodire del coltivare che mette la tecnica al servizio della vita e dei suoi abitanti ecco dunque il nomos della terra nell'era del mare tecnico per diventare umana e non disumana la terra va lavorata insieme con impegno e generosità perché così solo così può tornare a fruttare in tale contesto il lavoro non solo può ma deve tornare a essere al centro del nostro modello di sviluppo e non a parole ma nei fatti nelle scelte concrete delle imprese della pubblica amministrazione delle famiglie il che significa nuove forme contrattuali nuova imposizione fiscale nuove regole degli appalti nuova organizzazione scolastica educativa in vero non c'è nulla di scontato nel dire che occorre rimettere al centro del nostro modello di sviluppo il lavoro nella sua accezione più antropologicamente più ampia semplicemente perché veniamo da una lunga stagione in cui questo non è stato vero quindi non diamolo per scontato perché non è scontato ma cosa vuol dire rimettere al centro il lavoro primo tre cose prendersi cura dell'umano in tutte le sue dimensioni si discute di formazione e competenze ma una cosa va riaffermata con forza oggi occorre formare cioè capacitare la persona superando le false dicotomie che separano invece di tenere insieme non va bene una cultura stratta distaccata rispetto alla quale la realtà non pare mai l'altezza ma nemmeno va bene un tecnicismo sfittico schiacciato sul fare per il fare occorre ribadire che la persona intera è fatta di tante dimensioni cognitive emotive manuale sociale che vanno tutte stimolate curate curando coltivando il sapere teorico e quello pratico la conoscenza formale informale la possibilità di realizzarsi anche lavorativamente senza produrre scarsi dipende dalla crescita armoniosa di tutte queste dimensioni un processo delicato che deve vedere tanti soggetti e istituzioni agire di concerto e non semplici agenzie specializzate perché una formazione integrale non è mai solo un affare privato una formazione integrale non è mai un affare solo privato dice un proverbio africano per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio tradotto nel linguaggio della contemporaneità l'educazione è un bene comune il che significa anche che alla lunga non c'è nemmeno crescita se la comunità non si cura dei propri giovani soprattutto di quelli più fragili che poi tra virgoletti diventano un peso in una prospettiva di sviluppo sostenibile l'inclusione è un principio economico secondo mettere al centro il lavoro significa creare un ecosistema favorevole a chi lo crea e a chi lo pratica obiettivo che in Italia rimane incredibilmente ancora lontano andare in questa direzione significa detassare quanto più possibile il lavoro e poi in generale l'attività che lo creano fare arrivare a chi crea lavoro e non a chi specula o vive di rendita dei risorsi disponibili combattere il castello caffiano della burocrazia italiana gli avversari sono chiari finanza predatrice stato distruttore speculazione edilizia sovranità del consumatore ma non si tratta solo di liberare il lavoro si tratta anche di creare nuovo valore gli economisti presenti mi perdoneranno ma l'economia ha sempre a che fare con la produzione di valore è solo questo l'economia e non è una macchina obiettivo creare nuovo valore che richiede una rinnovata capacità di stipulare alleanze per creare quel valore condiviso tra le cui piega è nascosta buona parte dell'economia del futuro gli esempi sono tanti dal welfare che va completamente ripensato all'abitare come è stato giustamente ricordato oggi nell'omelia dall'ambiente ai beni culturali dall'educazione alla ricerca dall'energia alle infrastrutture il lavoro può nascere solo laddove si saprà mettersi insieme per produrre nuovi tipi di beni nuovi tipi di beni abbiamo bisogno di nuovi tipi di beni non semplicemente di beni individuali privati perché altrimenti noi la nostra economia non ci sarà più siamo troppo pochi troppo vecchi e abbiamo alle spalle 70 anni di benessere quale beni privati che continueranno a essere importanti ci mancherebbe su quali beni privati volete costruire la crescita del futuro quello che viviamo è un tempo di innovazione non di conservazione terzo non basta parlare del lavoro purché sia il lavoro va sempre di nuovo umanizzato nell'epoca dei robot e dell'intelligenza artificiale il lavoro si salverà solo capendo meglio e valorizzando la specificità del lavoro umano dobbiamo capire che cosa ci distingue dalle macchine dobbiamo capirlo meglio perché non ci sarà salvezza del lavoro se non riflettiamo su questo punto per reggere l'impatto della digitalizzazione c'è bisogno di una conversione culturale passare da un'economia della sussistenza a un'economia dell'esistenza cioè saper vivere e di saper fare dove il lavoro non sia mera fabbricazione lo faranno i robot ma vera contribuzione umana come ha detto Papa Francesco oggi la creazione di nuovo lavoro ha bisogno di persone aperte intraprendenti di relazioni fraterne di ricerche di investimenti per risolvere le sfide del cambiamento climatico e sociale per umanizzare il lavoro occorre avere ben chiara la distinzione tra estrazione e creazione di valore nel primo caso si tratta di spremere il limone dell'efficienza andando a scovare tutti i frammenti di realtà a cui si può applicare un prezzo così quando voi fate il biglietto sull'online avete due biglietti volete viaggiare con la vostra moglie andate a fare il check in online e vi chiedono 5 euro per viaggiare insieme a vostra moglie ecco i posti ci sono già è tutto lì estrazione di valore vi fanno pagare il fatto che voi volete viaggiare insieme a vostra moglie questa estrazione di valore è solo un esempio nel secondo caso la creazione di valore si tratta di cogliere i bisogni che non hanno ancora risposta di mettere insieme ciò che è frammentato disperso di favorire la collaborazione tra le parti di scommettere sulla capacità di iniziativa delle persone di comunità un esempio il castello di Paternello in un piccolo comune di Brescia bene abbandonato che un'associazione locale un gruppo di volontari ha cominciato a rimettere in piedi nel giro di qualche anno il castello è stato completamente ristrutturato ha generato posti di lavoro e ha ricreato un contesto di crescita in un borgo abbandonato estrazione di valore non è creazione di valore sono questi i tre temi quindi scuola formazione creazione di lavoro e umanizzazione del lavoro sono questi i tre temi delle sessioni parallele che proseguiranno il lavoro dei tavoli di ieri di fronte alle gravissime difficoltà in cui si dibatte la generazione dei miei dei nostri figli non basta perciò invocare evocare una generica ripresa dubbia nella consistenza e ancora di più nei suoi effetti né tantomeno si tratta di sollecitarli a correre non si sa francamente né verso dove né per far che cosa si tratta piuttosto di autorizzarli è un termine che amo tanto dobbiamo autorizzarli c'è bisogno di una generazione che autorizzi i giovani non nel senso che gli diamo il permesso ma che appunto col nostro pieno e condiviso sostegno li accompagniamo nella costruzione di un modello di sviluppo nuovo meno ossessionato dalla crescita quantitativa dalla performatività dalla efficienza e più interessato alla nuova sintesi tra materiale e spirituale strumentalità e senso efficienza e creatività e questo ringraziamo l'invito di Papa Francesco Adoperatevi scrive per andare oltre il modello di ordine sociale oggi prevalente dobbiamo chiedere al mercato non solo di essere efficiente nella produzione di ricchezza e nell'assicurare una crescita sostenibile ma anche di porsi al servizio dello sviluppo umano integrale non possiamo sacrificare sull'altare dell'efficienza vitello d'ora dei nostri tempi valori fondamentali come la democrazia la giustizia la libertà la famiglia il creato in sostanza scrive il Papa dobbiamo mirare a civilizzare il mercato nella prospettiva di un'etica amica dell'uomo e del suo ambiente è tutto qui questa dunque deve essere l'ambizione lavorare con e per le nuove generazioni allo scopo di promuovere il lavoro degno non sfruttato e degradato ragionevolmente retribuito e stabile come pilastro di un nuovo modello di sviluppo prima di tutto per ragioni di senso perché vogliamo la felicità nostra e delle persone e dei nostri figli e poi per ragioni di merito perché nel tempo che viviamo solo la qualità del lavoro sarà capace di fare anche la quantità del lavoro solo la qualità del lavoro in quest'epoca fa anche la quantità di lavoro e tuttavia nel caso italiano ho quasi finito e tuttavia nel caso italiano indicare la direzione non basta perché i nostri giovani ce la facciano e i tre passaggi generazionali che ho ricordato all'inizio dobbiamo non dimenticarli c'è bisogno di uno sforzo straordinario per trasformare in un'occasione l'allungamento della vita media giovedì il cardinale Bassetti ha parlato di un grande patto per il lavoro un patto che deve essere prima di tutto intergenerazionale se si vuole invertire il declino generazionale che è il tema dell'Italia se vogliamo fermare questa deriva tra mio padre e me e i miei figli perché se se togliamo questo senso storico non ce la facciamo quindi se si vuole invertire il declino generazionale occorre realizzare un patto tra le generazioni che mire a sciogliere una contraddizione che rischia di essere micidiale chi ha il patrimonio non investe perché vuole proteggersi non i grandi anziani diciamo gli anzianetti come me o quelli sopra diciamo chi ha tra i 50 e i 70 anni i 75 anni chi ha il patrimonio non vuole investire perché è in una fase della vita in cui vuole proteggersi chi vuole investire e ha bisogno di investire non può farlo perché non dispone delle risorse necessarie ed anzi è gravato dal debito accumulato i giovani questa è una contraddizione profonda di questo paese e quando parliamo di un patto per il lavoro dobbiamo ragionare su questo punto lo dico molto concretamente i quattro risparmi che con mia moglie abbiamo messo insieme piuttosto che la casa eredità di mio padre io devo pensare di mettere a disposizione oggi i miei figli perché stanno partendo oggi perché la mia vita si allunga in condizioni differenti ci troviamo in un passaggio di fase la provvidenza ci guida è stato ricordato le due precedenti settimane sociali in cui si è parlato del lavoro furono il 45 e portarono alla costituzione fondata sul lavoro e il 1970 con lo statuto dei lavoratori siamo in un momento così oggi si tratta di proporre all'Italia di stipulare un grande patto intergenerazionale basato sulla rinnovata centralità del lavoro degno così da far emergere il bene comune un vero proprio interesse che lega anziani e giovani oggi l'avvio di una stagione qualitativamente diversa di sviluppo basata sulla centralità del lavoro a vantaggio delle giovani generazioni come condizione per la sostenibilità della protezione degli anziani che vivranno più a lungo un'opportunità che richiede la creazione di nuovi strumenti finanziari fiscali contrattuali abitativi per mettere in gioco il patrimonio e il patrimonio significa il dono del padre mobiliare e immobiliare accumulato in favore della ripartenza delle giovani generazioni una questione che riguarda le famiglie le imprese le associazioni lo Stato la Chiesa anche la Chiesa deve mettere il suo patrimonio in gioco ecco dunque cosa ci chiede l'arrivo di una nuova primavera tornare a seminare con speranza e larghezza così da poter sperare di raccogliere a suo tempo frutti buoni ci sostiene una convinzione profonda l'Italia ha tutte le qualità per essere il luogo dove aprire il cantiere di questo nuovo paradigma la tradizione italiana si distingue infatti per non avere mai ridotto il lavoro all'astrazione all'asserialità alla banalizzazione mantenendo piuttosto la capacità di incarnarlo nella concretezza della vita quando è stata capace di essere fedele a questa sua vocazione il lavoro italiano ha saputo tenere insieme ciò che altrove si è separato il bello con la funzione la mano con la testa il singolo con la comunità l'utilità con il dono e soprattutto il particolare con l'universale l'immanenza con la trascendenza in tale modello il lavoro inteso come esperienza viva in cui la persona conosce se stessa e si forma nel suo rapporto con la realtà come dice Romano Guardini l'uomo diventa se stesso quando abbandona se stesso non però nella forma della leggerezza del vuoto ma in direzione di qualcosa che giustifica il rischio di sacrificare se stessi quando questo è accaduto è stato fondamento del benvivere e del benessere fattore di incivilimento vero mediatore tra politica economia e cultura ciò spiega perché il lavoro è sempre stato uno dei modi forse il modo mediante cui l'Italia ha saputo esprimere la propria anima da questo genio sloci che valorizza l'unicità di ogni esistenza talento vocazione terra origina anche quella creatività che tanto peso sulla nostra prosperità economica un'originalità profondamente intrisa di quella matrice cristiana che secondo Guardini fonda l'umanesimo della concretezza al di là delle difficoltà la transizione in corso è l'occasione per recuperare e valorizzare questa nostra matrice culturale e spirituale che nei secoli ha prodotto esperienze straordinarie ancora oggi ammirate in tutto il mondo l'ultima in ordine di tempo è quella di Adriano Divetti che già 50 anni fa aveva intuito e provato a mettere in pratica l'opportunità di un modello di sviluppo sostenibile basato sulla valorizzazione del territorio e della comunità delle persone che lo abitano e ripartendo da qui dalla riscoperta della sua più intima matrice cattolica che oggi l'Italia può risollevarsi cogliendo l'opportunità del cambio di paradigma in corso dobbiamo chiudere una pagina e aprirne una nuova la primavera si annuncia come si suggeriscono i semi dei tempi ma come altre volte in passato senza il contributo coraggioso della radice cattolica il paese non ce la farà e questa è la responsabilità da assumere l'umanesimo della concretezza e oggi come ieri il codice più appropriato per ricomporre fede e storia grazie 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 Mauro Magatti non so se ascoltandolo prevalesse in me l'attenzione della giornalista o la preoccupazione della madre non di millennials ma di quelli che ancora peggio direi sono stati definiti la generazione Z con l'ultima lettera non mi piace troppo abbiamo compreso quanto rimettere al centro il lavoro non sia questione scontata e che Orizzonte Lungimirante richiede a breve nei tavoli vedremo quanto urgente è necessaria questa assunzione di responsabilità collettive a che punto di questo cammino così l'ha definito Mauro di nuovo sviluppo siamo io vi saluto ci ritroveremo qui alle 15.30 però ci sono delle comunicazioni di servizio per l'organizzazione dei lavori che prosegue a dopo grazie dell'attenzione allora adesso iniziano le riflessioni in diversi punti della fiera le riflessioni sul tema giovani scuola formazione lavoro si fermeranno qui perché si svolgeranno qui nella sala plenaria mentre invece creare nuove opportunità di lavoro e di impresa vi potete accomodare nel primo piano del padiglione dove sono state celebrate le messe in questi giorni sopra l'accettazione e infine il terzo gruppo il senso del lavoro umano e le sfide dell'innovazione andranno nel padiglione G dove avete svolto i lavori ieri quindi nella stessa area vi ricordo oggi di entrare in sala intorno alle 15.15 i lavori inizieranno intorno alle 15.30 dopodiché sarà difficile l'entrare dentro la sala quindi vi invito di essere puntuali nell'arrivo grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti